Un semplicissimo lampeggiatore LED con soli quattro componenti. Ecco lo schema elettrico con una resistenza da 1000 OHM, una da 100 OHM, un condensatore da 330 microfarad, un transistor 2N2222 e un LED. Da notare che la base del transistor non è collegata al circuito. Ed ecco il circuito stampato visto dal lato componenti. Grazie. 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 Grazie.